Noasi in curso bintisetti del riagio del suo 2017, di batta aiazza, l'ompi di una buona noa su chi per tocca sa di batta aiazza, sa sozio italiano assistenza espastico su perdonai, da bocca una circolari in noia da comunicare che i grasi bintotto del riagio, non ha poca il suo pagamento di un antizipo su un mese di donna santo del suo 2016. Secondo quanto contavo in busta paga, dobbiamo affinare uno bonus su due mesi di triola 6 agosto del 2016. Siamo con solo un arrivo per i dipendenti aiazza, che a dia da poter rappresentare uno sinalilevio di chi in relazionisi tra i dirigitori e i dipendenti aiazza si vuntasse lì a uso. Di batta alcoa, appostisi di saccordo intre in Vittalia e siderallo questa società di Svizzera che indieta di Bollibodis su sito ex alcoa del portovesme, su quindici del riagio passato, è stata capata a sora del valore del suo stabilimento del portovesme, serrao del suo 2012. Siderallo e si via piccata a Saffico, franca retraso burocratico, devai una proposta di compora del suo stabilimento del portovesme. Antisi, Intregrasi, Martisi, Bintotto, Devriargio, che s'adatta agli antapodi, immovia e innantisi, ma di una barrighe di ziscetti o assimpruso, di una scantugidasa. Per istanti, in un messaggio in Twitter del suo ministro del crescimento economico, Carolo Calenda, ad arrasposta al suo sindacalista del Saviom, Cigiella Bruno Zai, annunziendichi attento incontro un attopio in tre sindacali del suo ministro Mattessi, Pustisi, di questa data del suo 15 marzo. Intento, è su del vai, su punto, di questa situazione, a suve una dibattita che vari si allompi a compritura. C'ha vari di chi di una borta a questa società di Svizzera, sia di indirettura, decomporai il suo stabilimento. Il mese di ambienti sindacali si passa ad ottimismo, in merita a un risulto positivo. Un dato sicuro, intre una barrighe di ziscetti, sa da comprendi che ad allompio o no, sa fumata bianca, che dia da permiti, sovertura no a questa fabbrica, posta in suo volo industriale di Borto Vesme. Dibatta a Tifras, ad ambena, mettendo a risposta di straballatori del suo barco geominerario, postosi in mese di accordi, che a Cappiaia, da Vinas al suo 31, del suo mese di Ida a Savassau, sa sozietà di Atifras e sa regioni Sardigna. I operatori del suo barco geominerario 530, che intre a Gennarge Friargio, anti-Gosau, adesso sostento voi disimpre ausu Naspi, e del suo primo de marzo di anteside più so Torraia traballai. Su primo, adesso mesi verosi a costi, dei straballatori si non scinti da meni in noi, con menti e cando, anta Torraia a suo traballo. Tenendo in conto i sprefessionali dadisi e i squalificasi, 118 traballatori si incappas agli usassumi di Igea, altri 50 anche a punti destinati a progetto un noso presentato sempre di Igea. Funti 60, i senti locali si chianta rasposto a sabbiso dessa regioni, presentendi brutto e cento progetto su cui vertocca anta sa posta insegurità di descantierisi. Per istanti, i pograsi, e tenendo in conto una mesa di traballo un noso con i sindaccauso e i dirigitori generali si desassessorato su vertoccauso. Intento è su di assegurare i cantuantisi un'assunzione in oa ai 500 operatori si desu geoparco. Cronaca, sabuta e notte ha piccato un vuoco sa vettura di uno pensionato di Carbonia che via Frimma ha entrato un posteggio del suo garaggio intervista posto in vicina del Rosmarino. Su vuoco anche a tanta puntata e spampa santa ruina non scelti sa vettura ma viena se su garaggio in treo. In suo luogo, fontandosi vigili si desu vogo e scarabineri si desa compangia di Carbonia. I militari si fonti spriculenti po' cercai assautori de gustatuleggio po' comprendi e i tadapunnao. Un atto po' vai a timmi o calico una cosa devruzzo. Un altro vuoco attento Domenico Amerì che hanno usato a bruciare uno campo umano da canna posto in lacca nasa dei portescosi. A parra dei comprendi che si adatà appuntao. In cui sa topo puro esistete l'estro su traballo dei spompieri si de Carbonia.